Buonasera, grazie a tutti per essere di nuovo qui presenti all'undicesimo ciclo dei nostri dialoghi di diritto civile che iniziamo quest'oggi ma che prevedono altri tre incontri da qui fino a marzo come è nostra tradizione e che ci vedono sempre qui pronti a un confronto tra accademia e professioni, tra accademia e cultori della materia in generale. Poiché abbiamo il privilegio di avere con noi il nostro preside, il professor Giuseppe Nesi, senz'altro cedo immediatamente a lui la parola perché vuole fare un saluto e di questo io mi sono particolarmente grata. Gli cedo immediatamente dunque la parola. Ringrazio molto la professoressa Pasquino che mi ha invitato a darvi il benvenuto nella facoltà di giurisprudenza e quindi a nome dell'intera facoltà sono particolarmente lieto di portare il saluto. Il saluto che non è un saluto diciamo rituale per quel che mi concerne, nel senso che la facoltà di giurisprudenza di Trento che si appresta a celebrare il suo trentesimo anniversario nel 2014-2015 è particolarmente orgogliosa di avere fra le proprie attività questi dialoghi di diritto civile che costituiscono un momento nel quale la facoltà, l'università incontra la città, incontra il mondo delle professioni nella sua accezione più ampia delle professioni anche qui in maniera ampissima direi dal momento che sia magistrati che avvocati che notai sono direttamente coinvolti nello svolgimento di queste giornate che oramai da tempo come ricordava la collega Pasquino costituiscono un appuntamento molto importante per la nostra facoltà e anche per coloro che sono presenti. Io non devo dire molto di più, non voglio dire molto di più se non scusarmi perché altri impegni mi portano lontano da queste aule però non volevo appunto mancare e ringraziare tutti e in particolare ovviamente i relatori il professor Tamponi della LUIS di Roma la dottoressa Monica Tanasio del Tribunale di Trento e il dottor Paolo Carbone che rappresenterà anche i notai oggi qui quindi vi ringrazio davvero di cuore e vi auguro buon lavoro. Grazie. Io che dico grazie al mio preside anzitutto perché la facoltà si dedica puntualmente ogni anno non solo a garantire l'organizzazione di queste giornate ma anche a fornire la logistica a tutti i supporti del personale, dei locali a ospitare iniziative di questo tipo. Non posso ovviamente mancare di ricordare come sempre facciamo in genere in questi primi giorni di saluti i ringraziamenti agli altri amici coordinatori insieme con me di questa iniziativa come tutti sapete sono coinvolti nell'iniziativa di queste giornate non solo la Camera Civile dei Fori di Trento e Rovereto nella persona qui rappresentata del suo presidente l'Avvocato Marco Sartori la dottoressa Simona Caterbi come incaricata referente del Consiglio Superiore della Magistratura per la formazione dei magistrati distretto di Trento gli amici notai Andrea Cimino, Marco Dolzani per il Consiglio Notarile di Trento e Rovereto se non ci fossero queste sinergie vi posso assicurare che nessuno di noi potrebbe mai concepire una cosa del genere ovviamente per quanto mi riguarda do il mio contributo in nome della facoltà che ci ospita oggi il tema che noi abbiamo scelto per avviare queste giornate di incontro e di studio attiene come si legge dal titolo la responsabilità patrimoniale del debitore un tema che nel diritto civile potrebbe essere considerato tra i più tradizionali, tra i più classici tra i più assestati, tra i più consolidati eppure oggi lo proponiamo appunto ad inizio di questo ciclo di incontri poiché le nuove leggi speciali che il legislatore ha deciso di introdurre in materia hanno probabilmente spostato un po' di istituti abbiamo sempre studiato e trattato la materia della responsabilità patrimoniale del debitore secondo i principi cardine del codice civile sapendo che a seguito di quella disciplina la immediata ed è più efficace tutela diretta del creditore fosse quello di ricorrere senza dubbio in caso di inadempimento alle azioni esecutive oggi il legislatore speciale a seguito di interventi ad hoc segnatamente mi riferisco a leggi speciali quali la legge numero 3 del 2012 poi modificata ed integrata fino ad arrivare al testo ora riformulato dalla legge numero 221 sempre del 2012 l'intera materia potrebbe dirsi di nuovo sottoposta a riesame o comunque ad analisi senz'altro a un momento di confronto e di studio nuovamente a riprova del fatto che nel diritto civile si può sempre essere pronti e si deve sempre essere pronti a confrontarsi anche su temi più classici e tradizionali di così non si può non certo spetta a me il compito oggi di entrare nel merito della materia peraltro abbastanza variegata, complessa perché nella decisione del legislatore speciale all'istituto civilistico si affianca un apparato di norme che ci portano a sconfinare nell'ambito di un'altra disciplina il diritto fallimentare altresì mutuando istituti che ci riportano a particolari casi a particolari soluzioni ma il bello anche delle materie tradizionali è proprio quello di confrontarsi e misurarsi anche con altre discipline inizieremo dunque a studiare questo fenomeno cominciando a sentire i nostri relatori per vedere di che si tratta quali problemi eventualmente pone l'intervento del legislatore speciale quali soluzioni eventualmente invece dà quali momenti di coesistenza agevole e pacifica e quali invece momenti di discrasie si possono creare quando si avvicinano due discipline che finora erano rimaste piuttosto estrane almeno sul punto tra loro vedremo come la linea e il crinale tra contratto e processo è spesso e volentieri una linea intersecante ma ripeto lascerò ovviamente ai relatori esplicare e spiegare molto meglio le diverse problematiche ricordo anch'io i nomi dei nostri relatori perché li voglio anch'io ringraziare a titolo personale in maniera particolare per aver accettato questo invito e dunque ringrazio il professor Michele Tamponi ordinario di diritto privato nella Luis Guido Carli di Roma nonché se mi consentite una notazione personale mio maestro e mia guida nel percorso accademico la dottoressa Monica Attanasio giudice del Tribunale di Trento il dottor Paolo Carbone notaio in San Martino Buonalbergo ognuno dei quali ci relazionerà appunto in rapporto all'esperienza immediata e diretta per quanto ancora di pochi mesi che hanno avuto con queste nuove discipline non indugio oltre e dunque cedo immediatamente la parola al professor Tamponi ringraziandola ancora una volta per aver accettato questo invito e per essere tornato in questa facoltà con nostro grande onore grazie sono io a ringraziare la professoressa Pasquino oltre che l'Università di Trento che ci ospita e naturalmente ringrazio i presenti che avranno la pazienza di ascoltarci ha ragione la professoressa Pasquino quando ci dice che siamo in presenza di un principio tradizionale quello della responsabilità del debitore il quale risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri secondo quanto ci dice il legislatore del codice civile e devo dire io appartengo a una generazione che ha visto che si è sentita indicare quel principio come una sorta di totem di regola immutabile indiscutibile indiscutibile incrollabile è connessa a questa la regola della par condicio creditorum cui si può derogare soltanto quando la legge prevede una causa di prelazione anzi gli articoli 2740 e 2741 del codice civile le disposizioni che contengono questi principi venivano tradizionalmente indicati come espressivi di regole di ordine pubblico in ragione dei precetti di ordine generale che contengono dalla entrata in vigore del codice civile ad oggi e soprattutto negli ultimi decenni abbiamo assistito a tanti mutamenti e sembra dunque naturale chiedersi oggi soprattutto alla luce dei provvedimenti più recenti tra cui quello che la professoressa Pasquino indicava sul cosiddetto sovraindebitamento quale sia la portata attuale degli articoli 2740 e 2741 tradotto in altri termini questo interrogativo significa quali poteri sono riservati ai privati di incidere sulla disciplina legale quali poteri il privato ha di incidere sulle cause legittime di prelazione e quale controllo del giudice vi è sulla esplicazione dell'autonomia dei privati e dico subito che l'articolo 2640 esprime una regola generale ma non assoluta perché al secondo comma dopo averci detto nel primo che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri ci precisa che sono ammesse anche delle limitazioni di responsabilità ma soltanto nei casi previsti dalla legge siamo dunque in presenza di una riserva di legge della quale lo stesso codice civile ha fatto largo uso se pensiamo a tante situazioni caratterizzate da limitazione della responsabilità i beni della comunione regale tra coniugi rispetto ai creditori personali del singolo coniuge il fondo patrimoniale l'eredità beneficiata la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede ma anche altre disposizioni nel libro quinto per esempio i fondi di previdenza o assistenza accantonati dall'imprenditore articolo 2117 il fondo consortile la quota del socio di società in nome collettivo il creditore del singolo socio non può pretendere la liquidazione finché la società è in vita questo per limitarci al codice civile ma poi basta affacciarsi allargare un po' lo sguardo e nel codice di procedura civile troviamo le varie disposizioni sulla impignorabilità di determinati beni le cose sacre l'anello nuziale gli arredi essenziali della vita familiare compreso frigorifero e lavatrice ormai in base a innovazioni relativamente recenti ma anche la legge fallimentare contiene qualche limite perché i beni e diritti strettamente personali del fallito non possono essere appresi dal curatore non cadono nel fallimento proprio perché appartengono alla sfera strettamente personale dell'imprenditore insolvente ma è soprattutto la legislazione più recente che ha introdotto limitazioni al principio della responsabilità patrimoniale universale del debitore universale nel senso che è comprensiva riferita a tutti i suoi beni presenti e futuri parto da un esempio da un caso recentissimo il decreto del fare del giugno scorso dell'attuale governo ha previsto la limitata parziale impignorabilità della prima casa della casa di abitazione a certe condizioni e naturalmente con riferimento esclusivo all'attività recuperatoria degli uffici tributari dell'erario quindi non si tratta di una deroga assoluta limitata al particolare rapporto del cittadino debitore con il fisco ma pensiamo a tutto l'ambito vastissimo dei debiti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni molte norme di contabilità pubblica pongono limiti alla pignorabilità lo sanno bene gli avvocati che debbono compiere un'esecuzione nei confronti di un comune nei confronti di un ente pubblico e vanno incontro a tutta una serie di limitazioni di deroghe e si tratta soltanto di esempi i beni postali i beni che servono per l'esercizio del servizio postale non possono essere pignorati lo stabilisce il codice postale che risale a una trentina d'anni fa forse primi anni anni settanta e se andiamo a cercare a scavare tra legislazione speciale ci imbattiamo anche in situazioni e direi curiose se non fossero drammatiche mi è capitato casualmente qualche giorno fa un decreto legge del 31 ottobre decreto legge 31 ottobre 2013 numero 126 misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ebbene si reintroduce l'impignorabilità delle somme destinate dalle regioni alle ASL quella impignorabilità che la Corte Costituzionale con una sentenza del 3 luglio 13 di 4 mesi fa aveva dichiarato costituzionalmente illegittima perché violatrice dell'articolo 24 della Costituzione in sostanza il legislatore nel momento stesso in cui ci viene sbandierato che la pubblica amministrazione paga finalmente i suoi debiti abbiamo sbloccato miliardi di debiti nei confronti delle imprese lo stesso legislatore con l'altra mano reintroduce ciò che la Corte Costituzionale 4 mesi fa ha dichiarato illegittimo ma non voglio apparire antigovernativo per carità semplicemente faccio questa notazione perché veramente è il segno delle contraddizioni ma purtroppo anche il segno delle difficoltà nelle quali il nostro paese si dibatte dunque siamo in presenza di deroghe al principio che ho chiamato prima della responsabilità universale del debitore queste deroghe si sono largamente dilatate in un contesto che è un contesto di contenimento della tutela del creditore contenimento che nel tempo si è manifestato attraverso varie forme ma ovviamente eminentemente attraverso l'intervento del legislatore a volte si è trattato di interventi che hanno mirato a colpire l'eccesso di tutela del creditore penso per esempio a quell'orientamento giurisprudenziale che si è creato diversi anni fa quando si è cominciato a dire che il giudice può d'ufficio ridurre la penale manifestamente eccessiva quindi un intervento giurisprudenziale diretto a colpire un eccesso di tutela del creditore ma in questa logica vedrei anche la modifica di circa vent'anni fa del 92 se non ricordo male di una disposizione in tema di fideillusione quella che ammetteva la fideillusione per obbligazione futura senza limiti di importo la cosiddetta fideillusione omnibus il legislatore intervenne stabilendo che si è valida sempre che vi sia un tetto anche in questo caso si trattava di evitare un abuso o un eccesso di tutela del credito tante altre disposizioni soprattutto disposizioni recenti segnano il contenimento della tutela del creditore ma non direi dell'abuso della tutela stessa penso per esempio alla riforma societaria la riforma delle società di capitali del 2003 andando a osservare le singole innovazioni ci imbattiamo in diverse situazioni in cui è agevole cogliere una compressione della tutela creditoria per esempio tradizionale regola i liquidatori non possono ripartire i beni sociali ai soci se prima non hanno soddisfatto i creditori della società questa regola tradizionale è rimasta ma con un correttivo che è un'attenuazione della tutela del creditore perché si stabilisce che i liquidatori possono comunque distribuire degli acconti purché vi siano risorse sufficienti a garantire i creditori sociali cioè si è passati da una tutela reale a una tutela che chiamerei previsionale previsionale nel senso che le aspettative dei creditori sono affidate a che cosa alla previsione che fanno i liquidatori alla valutazione che fanno i liquidatori queste somme basteranno serviranno saranno sufficienti a soddisfare i creditori non solo la norma prevede anche che i liquidatori possano imporre al socio che riceve beni sociali che riceve a conti una garanzia ma si tratta di una scelta discrezionale non sono obbligati a farlo e questo ancora di più pone a rischio pone nell'incertezza il recupero del credito un'altra notazione sempre tratta dalle innovazioni del 2003 al diritto societario la cancellazione della società dal registro dell'impresa è ormai natura costitutiva cioè l'ente si estingue all'atto della cancellazione questa regola non è innocua rispetto alla tutela del creditore intanto perché dal momento dell'estinzione comincia a decorrere l'anno per l'eventuale richiesta del fallimento non solo a quel momento il creditore che sia rimasto tale creditore insoddisfatto nonostante l'approvazione del bilancio finale di liquidazione ha azione nei confronti dei singoli soci che abbiano ricevuto che abbiano fruito di distribuzioni ma se è trascorso l'anno debbono inseguire i creditori debbono stanare i creditori i soci nel loro domicilio li debbono inseguire perché solo per il primo anno possono avanzare la loro domanda notificando la pretesa nell'ultima sede della società dopodiché debbono cercarli andarle a cercare possono essere tanti possono avere domicilio all'estero potrebbe essere difficile rinvenirli tutto questo cosa significa che soci disinvolti e liquidatori spregiudicati oppure negligenti oppure disattenti determinano la fine della soggettività dell'ente e provocano in questo modo la frantumazione della iniziativa recuperatoria del creditore lo pongono in una situazione di particolari difficoltà ancora un altro esempio di come la riforma del diritto societario abbia attenuato la tutela dei creditori oggi i liquidatori possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società cioè è caduto quel divieto di nuove operazioni che era stato ereditato dal nostro codice civile dalle legislazioni mercantili ottocentesche è rimasto questo divieto per le società di persone ma è caduto per le società di capitali e anche questo cosa significa maggiore rischio per il creditore perché ben può accadere che il liquidatore intraprenda una nuova attività ritenendo che questa attività sia profigua e invece come purtroppo non raramente succede un'attività in un'iniziativa imprenditoriale che sembra destinata al successo si traduce invece in un insuccesso e quindi nella consumazione di quelle risorse che sarebbero state altrimenti riservate ai creditori ancora un'altra regola tradizionale del diritto societario la regola che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci alla società è postergato cioè prima debbono essere soddisfatti gli altri creditori poi se resta se restano delle risorse e queste sono destinate a rimborsare i finanziamenti effettuati ebbene la legge fallimentare nella ultima revisione di metà 2012 estate 2012 ha stabilito la prededucibilità sia pure limitata all'80% dei finanziamenti del rimborso ai finanziamenti effettuati dai soci e da coloro che esecitano attività di direzione e controllo se si tratta di finanziamenti che sono stati effettuati nel quadro in esecuzione di accordi di ristrutturazione o in esecuzione di un concordato preventivo anche tutto questo si traduce in una limitazione della tutela dei creditori e direi il massimo dello scadimento della riduzione di questa tutela si coglie e non da oggi da quando è stata introdotta nella procedura di amministrazione straordinaria i creditori sono estranei alla fase di dichiarazione dell'insolvenza sono estranei alla fase di ammissione alla procedura sono estranei alla fase in cui si forma si discute si approva il programma di ristrutturazione in sostanza il loro consenso è richiesto soltanto nell'ipotesi di concordato e così è stato in realtà fin dalla nascita della legislazione sulla procedura di amministrazione straordinaria quella legge Prodi risalente al 1979 la quale esordiva proprio attribuendo all'autorità amministrativa al ministero dell'industria allora il potere di assoggettare ad amministrazione straordinaria le grandi imprese in crisi tenendo anche conto dell'interesse dei creditori cioè mentre fino ad allora le procedure concorsuali erano finalizzate alla tutela dei creditori l'amministrazione straordinaria fu introdotta con la previsione che si sarebbe tenuto anche conto della tutela dei creditori accanto ad altri interessi accanto ad altre esigenze palesemente di carattere prevalente in quel momento all'esigenza di tutela dei creditori ma poi in realtà l'indebolimento della posizione dei creditori di fronte all'amministrazione straordinaria è in reipsa perché il tentativo di mantenimento in vita di un organismo produttivo in grande crisi significa esposizione dei creditori al rischio aggiungerei alla probabilità che quelle residue e risorse si consumino e nulla rimanga per i creditori perché si amplifica enormemente l'onere che cade in prededuzione le risorse che vengono consumate per il tentativo di rilancio produttivo che qualche volta riesce e molte altre volte non riesce non solo a questa normativa introdotta nel 79 poi modificata varie volte nel tempo si sono aggiunte tante leggine tanti petali ma di una rosa molto spinosa che hanno aggravato la situazione appartengo ad una generazione anagrafica che ricorda una certa legge Genghini le facce che vedo qua sono tutte giovanissime e questo nome non dice nulla verrebbe da pensare ma sarà un ministro sarà un parlamentare che si è fatto promotore di questa legge del 1980 no Genghini la Genghini era un'impresa del settore edilizio che era insolvente la si voleva fare entrare sotto procedura di amministrazione straordinaria però non aveva requisiti che cosa si è fatta una legge interpretativa che poi non era affatto interpretativa era innovativa e così si è fatto spazio per l'ammissione del gruppo Genghini in amministrazione straordinaria qualche anno dopo un'impresa saccarifera era soggettata ad amministrazione straordinaria i fornitori delle barbabietole non erano più disposti ad effettuare le forniture si è fatta una legge che è stabilito che il credito dei fornitori di barbabietole credito maturato anteriormente alla procedura doveva essere riguardato come credito in prededuzione e la stessa regola è stata applicata mi parla nello stesso anno 83 con riguardo ad una impresa di navigazione che pure era in amministrazione straordinaria con riguardo ai crediti dei lavoratori i quali i marittimi si rifiutavano di reimbarcarsi se non fossero stati pagati loro gli stipendi le retribuzioni arretrate in quegli stessi anni anche il TFR per chi era andato via prima dell'avvio della procedura furono assimilati ai crediti in prededuzione furono vietate addirittura le iniziative cautelari e anzi quelle già assunte furono dichiarate inefficaci quindi si ebbe tutta una stratificazione di interessi frammentari protetti da leggi e leggine frutto spesso di attività di lobby il che significa che le leggi ad personam non ce le abbiamo inventate ora in realtà ci sono sempre stato ma tutto questo si è tradotto in un affievolimento significativo della tutela dei creditori un affievolimento che finisce per porre in discussione il principio generale della responsabilità del debitore di cui è l'articolo 2740 e questa modificazione finisce per coinvolgere intensamente anche il principio della parità di trattamento dei creditori in particolare il rapporto crediti privilegiati crediti chirografari che emerge dall'articolo 2741 perché fino a pochissimi anni fa eravamo abituati e avevamo imparato che non si può pensare ad un concordato se non c'è comunque la tutela integrale dei creditori privilegiati viceversa la normativa attuale sul concordato la normativa sugli accordi di ristrutturazione come pure la normativa sul sovraindebitamento prevede che anche i creditori privilegiati possano essere sacrificati possano essere cioè non integralmente soddisfatti purché lo siano in una misura non inferiore a quella che deriverebbe da una ordinaria attività liquidatoria questo cosa significa significa che sostanzialmente viene travolto il tradizionale rapporto crediti privilegiati crediti chirografari e in realtà non perché il legislatore sia voluto ritornare ad una par condicio senza deroghe ma piuttosto perché si è introdotto un criterio di differenziazione diverso nel senso che la normativa fallimentare degli ultimi anni ha introdotto il sistema delle classi della divisione dei creditori in classi sì che la deroga alla par condicio resta ma è fondata su criteri diversi sarà la classe dei lavoratori dipendenti la classe degli artigiani la classe dei piccoli creditori e così via criteri diversi che mettono in discussione fortemente la tradizionale dicotomia creditori privilegiati creditori chirografari si dice ma in realtà alla base di questa variante rispetto al passato c'è un elemento pattizio un elemento pattizio perché parliamo di concordati sia all'interno dell'amministrazione straordinaria sia all'interno del fallimento parliamo di concordato preventivo in cui pure c'è o dovrebbe esserci l'elemento negoziale parliamo di accordi di ristrutturazione e già la parola accordi ci fa capire che c'è l'elemento negoziale e questo vale allo stesso modo per il sovraindebitamento escluso peraltro il sovraindebitamento del consumatore che la legge del 2012 prevede espressamente ma lì non c'è il voto dei creditori lì c'è un ruolo particolarmente significativo del giudice il quale valuta in sostanza in luogo dei creditori dunque verrebbe da dire esaltazione del momento negoziale il trattamento del credito finisce per essere oggetto di una manifestazione di volontà appunto perché c'è l'elemento consensuale perché questo elemento negoziale consensuale supera la protezione legale derivante dalle cause legittime di prelazione sì che si salvaguarda l'interesse del creditore a definire privatamente la propria posizione economica in un quadro sia pure attenuato di controllo giurisdizionale questa è la spiegazione che si dà personalmente ho molti dubbi che si tratti di una negozialità vera sana pura è una negozialità in larga misura artificiosa e forzata direi quasi se non fosse troppo forte questo aggettivo ipocrita perché il consenso dei creditori è basato su una regola che è quella del silenzio assenso e il silenzio assenso che cosa vuol dire che il creditore scoraggiato il creditore stanco da anni di attesa di mancato recupero del credito rinuncia persino ad esprimere la propria valutazione negativa e esprime anzi il massimo di valutazione negativa rinunciando a votare ebbene quel voto viene preso dal legislatore come si come se si facesse il referendum per l'abrogazione di una legge e si dicesse a tutti coloro l'atteggiamento il contegno di tutti coloro che non sono andati a votare equivale a consenso per quella legge e allora è chiaro che una legge non si abrogherebbe mai in sostanza il disinteresse o lo scoramento assoluto di tanti creditori finisce per prevalere su quella minoranza che è ostinatamente contraria al concordato e che si è espressa in maniera specifica diretta contro quella proposta di concordato o contro quell'accordo di ristrutturazione possiamo veramente parlare allora di valorizzazione dell'autonomia privata di privatizzazione delle procedure concorsuali io ritengo che la risposta debba essere negativa e che semplicemente ci si allontana dalla regola dell'articolo 2740 del codice civile del resto questa embrione di negozialità che rinveniamo questa apparenza di negozialità che rinveniamo finisce per alterare anche il concetto tradizionale di contratto che abbiamo perché il contratto esprime la fisiologica ontologica direi contrapposizione di interessi e invece col meccanismo che ho appena riferito il contratto diventa una sorta di strumento di condivisione di interessi e di distribuzione di oneri e di rischi oneri e rischi che in concreto il creditore oggi è chiamato ad affrontare in misura molto maggiore che in passato faccio un esempio e sempre con riferimento all'amministrazione straordinaria che è una sorta di cartina di tornasole al riguardo si prevede che l'azienda in esercizio di una impresa in amministrazione straordinaria possa essere ceduta il cessionario però si deve obbligare a continuare l'attività per almeno per due anni e a mantenere almeno per lo stesso periodo gli stessi livelli occupazionali o comunque quelli che sono stati stabiliti concordati nell'atto di cessione però che cosa aggiunge la legge aggiunge ovviamente di questi impegni che il cessionario assume si deve tener conto nella determinazione del prezzo e quindi poiché è chiaro che un imprenditore che acquisisce un'azienda decotta dovrà sostenere degli oneri per mantenerla in vita per ristrutturarla accade che il prezzo di cessione è un prezzo ridotto a volte un prezzo soltanto simbolico in sostanza il bedouille il cattivo futuro di quell'azienda viene posto a carico di chi? a carico dei creditori pensiamo ad esempio a un complesso aziendale che sia caratterizzato dalla presenza di immobili che sono stati concessi in ipoteca quegli immobili in sé per sé avrebbero un certo valore spunterebbero un certo prezzo sul mercato ma ceduti insieme all'azienda in questo complesso unitario e attraverso la determinazione di un prezzo che tiene conto degli oneri che il cessionario dovrà sostenere il creditore pure ipotecario non prenderà nulla o prenderà molto poco perché si vedrà riconoscere per quel bene collocato all'interno dell'organizzazione aziendale un ricavato molto molto limitato esiguo addirittura insussistente ancora un altro esempio la legge fallimentare versione 2012 quindi con le modifiche più recenti prevede che il debitore che abbia fatto domanda di concordato preventivo ovvero che abbia proposto la stipulazione di un accordo di ristrutturazione può essere autorizzato dal tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili e a pagare crediti anteriori per prestazioni aventi ad oggetto beni o servizi che siano prestazioni che siano state rese in precedenza quindi che non sarebbero in prededuzione ma lo diventano perché la legge lo stabilisce e anche tutto questo in che cosa sfocia sfocia evidentemente in una minor tutela di chi è già creditore in sostanza l'interesse dei creditori è subordinato ad altri interessi cioè si reiterano nelle altre procedure quegli inconvenienti che già erano presenti fin dall'origine nella normativa sull'amministrazione straordinaria risalente ormai a più di 30 anni fa la verità è che ormai sotto il nome di legge fallimentare anzi di legislazione concorsuale convivono sotto lo stesso tetto procedure completamente diverse tra loro perché vi sono da un lato procedure che sono effettivamente di espulsione dell'impresa dal mercato dell'impresa che non funziona dell'impresa che fa debiti invece che ricchezza il fallimento la liquidazione equata amministrativa e altre procedure invece sono orientate diversamente perché sono orientate al salvataggio sono orientate alla conservazione cioè sono procedure nelle quali l'interesse non è la tutela dei creditori ma è la salvaguardia dell'organismo produttivo il mantenimento dei livelli occupazionali quindi un interesse diverso distinto rispettabile rispettabilissimo ma diverso da quello della tutela dei creditori dunque il principio della responsabilità patrimoniale universale del debitore esce fortemente ridimensionato e questo ridimensionamento si tocca ancora meglio diviene ancora più palpabile se pensiamo alle tante normative recenti che hanno introdotto vincoli o hanno stabilito separazione più o meno spinta più o meno accentuata di patrimoni il trust la finanza di progetto i patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare le segregazioni nelle normative di cartolarizzazione i fondi pensione le gestioni patrimoniali il sovraindebitamento tutte forme di vincolo di separazione trascrivibili non trascrivibili questo è il problema del notaglio che si affiancano alle deroghe tradizionali ho richiamato prima la comunione regale tra conoggi il beneficio di inventario il fondo patrimoniale potrei richiamare la SRL con unico socio tutto questo in che cosa si traduce si traduce in un crescente affrancamento dal canone della unitarietà patrimoniale del soggetto cade l'idea di questa unicità e quindi cade il corollario della responsabilità universale e si alloga ad una frammentazione che non è del soggetto evidentemente ma è una frammentazione della sua proiezione patrimoniale il patrimonio si smembra idealmente in tanti frammenti anche in questo fenomeno rinveniamo certamente una attenuazione del principio di quel principio antico totem dell'articolo 2740 soprattutto le limitazioni che la norma prevede sono limitazioni tipiche ho parlato prima di riserva di legge di principio di legalità ma è una tipicità che ormai si è scolorita fino a divenire evanescente perché nel momento in cui c'è la inversione del rapporto regola eccezione quella regola finisce per non essere più tale che cosa esprimeva quella regola esprimeva proprio la preclusione alla divisibilità del patrimonio allo scorporo del patrimonio la divisibilità era l'eccezione anzi la divisione poteva avvenire ma aveva un preciso prezzo la costituzione di un nuovo soggetto costituisco una società un nuovo soggetto avrà la sua autonomia patrimoniale costituisco un'associazione costituisco una fondazione ora invece l'eccezione si è generalizzata e si assiste dunque anche sotto questo profilo alla crisi del principio generale emblematica è proprio la procedura di sovraindebitamento in cui il debitore azzera la propria posizione debitoria liberandosi completamente dei suoi debiti con ciò che ha ciò che avrà i beni futuri non potranno essere aggrediti da chi era creditore e quel creditore ormai è stato soddisfatto con ciò che c'era al momento dell'ammissione dell'omologazione del sovraindebitamento dopodiché quel debitore non più tale riparte da zero e quindi nuovi beni nuovi diritti potranno essere destinati a soddisfare soltanto i nuovi creditori e non quelli anteriori un passo ulteriore se ho ancora alcuni minuti non ho visto quanto tempo è passato passo ulteriore sono ammissibili gli accordi i patti sulla responsabilità patrimoniale o sono nulli per contrasto con l'articolo 2740 sono accordi con causa illecita io direi vi sono accordi che in realtà rispondono a criteri di razionalità e di meritevolezza per esempio la fideiusione il contratto di fideiusione finisce per essere un accordo sulla responsabilità però attenzione è un accordo a favore del creditore questo quindi non limita la responsabilità anzi l'amplia nel senso che si pone un altro patrimonio a favore a disposizione del creditore per il soddisfacimento della sua aspettativa e questo vale mutatis mutandis anche per la dazione di ipoteca da parte del terzo non debitore ma per esempio perché dovremmo considerare contrario a principi dell'ordinamento la rinuncia di un creditore a impugnare un atto di disposizione la rinuncia di un creditore ad esperire un'azione revocatoria che pure potrebbe esperire in relazione ad un bene di cui il debitore abbia disposto e perché dovremmo considerare contraria ai principi la rinuncia pattizia di un creditore ad aggredire un determinato bene del debitore non vedrei in realtà ragioni di principio per escludere accordi di questa natura certo si sono presentati anche nella pratica dei casi problematici per esempio si è posto il problema dei conviventi more uxorio che costituiscono un trust o vorrebbero costituire un fondo patrimoniale o vorrebbero vincolare ai sensi dell'articolo 2645 ter determinati beni nell'interesse del gruppo familiare famiglia di fatto c'è stata qualche pronuncia di merito di tribunali Reggio Emilia Trieste in questi anni e allora viene da chiedersi che cosa è proprio con specifico riferimento all'articolo 2645 ter cioè a quella disposizione di alcuni anni fa che ha messo la trascrivibilità di determinati vincoli con specifici obiettivi che cosa significa in quel contesto valutazione di meritevolezza interessi meritevoli di tutela c'è fungibilità tra la nozione di meritevolezza e la nozione di liceità di liceità degli interessi meritevolezza vuol dire non in liceità come in genere si dice con riguardo alla tipicità dei contratti nell'articolo 1322 e io avrei qualche difficoltà a rispondere affermativamente a questo interrogativo perché il richiamo contenuto nella disposizione in questione 2645 ter ai disabili e alla pubblica amministrazione fa pensare a finalità solidaristiche o a finalità di interesse generale il che significa che siamo di fronte ad una nozione come dire selettiva di meritevolezza cioè deve esserci qualcosa di più rispetto alla semplice liceità un filtro ulteriore cioè ci deve essere una giustificazione legale del sacrificio che è imposto ai creditori attraverso la limitazione della responsabilità del debitore attraverso il vincolo che si imprime a determinati beni e che viene trascritto per soddisfare specifici interessi se non ci fosse questo filtro i casi stabiliti dalla legge di cui parla l'articolo 2740 secondo gomma sarebbero tutti quelli in cui non vi è uno scopo illecito ma allora avremmo aperto la breccia per qualsiasi deroga sottratta sostanzialmente ad ogni controllo il che significa che non qualsiasi interesse individuale legittima la separazione patrimoniale ma solo la presenza di un interesse forte un interesse qualificato un interesse che sia qualcosa di più che non meramente non illecito domanda ulteriore con risposta problematica ma telegrafica se non c'è meritevolezza qual è il rimedio è la nullità o è la revocatoria azzarderei nullità se consideriamo ancora l'articolo 2740 una norma di ordine pubblico revocatoria se viceversa rimuoviamo questa qualificazione che prima si dava e che oggi è posta in discussione in primo luogo dalla giurisprudenza vi sono sentenze che espressamente dicono oggi il principio di cui l'articolo 2640 non può più essere riguardato come un principio di ordine pubblico un'ultima notazione legata al difficile equilibrio tra autonomia privata e controllo giudiziale in realtà del controllo giudiziale ho già implicitamente detto anche rispondendo a quest'ultimo interrogativo sull'alternativa nullità o revocatoria perché in ogni caso vi sarebbe il coinvolgimento del giudice almeno a fini dichiarativi con riguardo alla nullità e diciamo che il controllo del giudice direttamente o indirettamente è sempre presente in alcuni casi fisiologicamente per l'omologazione del concordato preventivo del sovraindebitamento degli accordi di strutturazione in altri casi patologicamente quando si crea la controversia di fronte alla contestazione sulla validità sull'efficacia di un atto di autonomia ma pensiamo per esempio al sovraindebitamento proprio alla normativa più recente e anche per certi versi più innovativa qual è il ruolo del giudice? beh c'è una deliberazione preventiva vi è poi vi è una valutazione dell'organismo di composizione della crisi dopodiché c'è l'esame del giudice ma è un esame di stretta legalità è un esame che mira a verificare se è stata raggiunta la maggioranza prevista dalla legge se ricorrevano se ricorrono i presupposti di ammissibilità per verificare l'assenza di atti in frode ai creditori per verificare l'assenza di fatti legittimanti l'annullamento non vi è una valutazione di merito certamente e lo accennavo prima il ruolo del giudice è molto più intenso nella procedura di sovraindebitamento se si tratta della procedura promossa da un consumatore perché in questo caso non c'è una proposta ai creditori la proposta è rivolta al tribunale e dunque è il giudice che valuta sulla percorribilità di quella strada questo però non significa e chiudo che effettivamente siamo in presenza di soluzioni di indole negoziale che vengono a prevalere sul profilo giudiziale diciamo che il versante giudiziario è sempre presente semplicemente è attenuato è un ruolo che si svolge eminentemente attraverso l'omologazione che esprime certamente un ruolo e delle finalità che sono fortemente differenti dal giudizio inquisitorio tradizionale cui eravamo abituati della legge fallimentare proprio perché si tratta di un giudizio sulla regolarità sulla legittimità da questo punto di vista il contrapunto dialettico tra autonomia contrattuale e processo cui faceva riferimento la professoressa Pasquino si risolve effettivamente con una prevalenza del dato negoziale ma il ruolo giudiziale mantiene la sua importanza la sua rilevanza proprio sotto il profilo del controllo e a questo punto mi fermo sperando di non avere stancato troppo l'uditorio credo di interpretare un po' il pensiero di tutti nel dire che da questa particolareggiata analitica esposizione appunto anche studio approfondito degli effetti della decodificazione praticamente a cui noi guardiamo con viva attenzione specialmente da qualche decennio a questa parte ci fanno pensare ad un menomazione del grado di effettività della tutela del creditore fondamentalmente allora ci viene quasi da domandarci se il ruolo a questo punto residuale dell'articolo 2740 del codice civile non sia quello di diventare presupposto per le forme di tutela preventiva del credito cioè giusto per azioni surrogatorie revocatorie per il sequestro conservativo quando ancora cioè in adempimento non si è neppure realizzato del resto questa continuo oscillare tra attività negoziale e necessità di interfacciarsi anche con il giudice per provare la via giusta per cercare la migliore soddisfazione del creditore e nei fatti e nelle norme oggi non vi è più disposizione di legge che non faccia riferimento proprio a questo ruolo e per questo infatti che adesso cedo volentieri la parola alla dottoressa Attanasio giudice delegato presso il tribunale di Trento come tutti saprete e che meglio di chiunque altro ci saprà dire come questo rapporto tra contratto e processo può essere visto dall'altra parte invece della barricata grazie dottoressa è funzionante ringrazio anch'io innanzitutto gli organizzatori di questi dialoghi l'università e i presenti e volevo innanzitutto condividere delle riflessioni che facevo nell'asservazione del professor Tamponi una riflessione è che le procedure concorsuali che storicamente nascono proprio per dare attuazione al principio di responsabilità del debitore sancito dall'articolo del 1740 e del collegato principio di par condicio del creditorium oggi forse è uno dei settori dove possono darsi delle rederoge importanti ad entrambi questi principi per qualche riguardo alla par condicio creditorium non sto non faccio ovviamente riferimento al fallimento dove questo principio è tuttora rispettato ovviamente nel rispetto poi delle cause di prelazione che quelle sono una deroga legislativamente prevista già da codice civile ma faccio riferimento al concordato preventivo perché sappiamo per l'appunto che una delle facoltà che è attualmente data il debitore è quella di formare delle classi di suddividere il ceto dei creditori chirografari in classi riservando a trattamenti differenziati che è evidente una deroga palese del 2740 e c'è anche questa però è discussa perché mentre in quel caso abbiamo l'espressa previsione legislativa questa è una tesi molto dibattuta proprio la possibilità di derogare al principio per il quale la responsabilità patrimoniale riguarda tutti i beni dei debitori presenti e futuri si discute oggi per l'ipotesi di concordato con essenzialmente l'ipotesi di concordato concessione dei beni se il concordato debba o meno riguardare tutti i beni o se invece il debitore possa mettere a fare la propria proposta mettendo a disposizione del ceto creditorio soltanto alcuni di essi c'è una tesi che lo ritiene possibile fa riferimento su un dato letterale che da una certezza relativa nel discorso era previsto un tempo il 160 dell'antiriforma parlava appunto di cessione di tutti i beni attualmente è scomparsa per l'appunto il tutti è scomparso per cui si dubita si discute per l'appunto se è possibile è vero anche che per quanto come lei ci ha illustrato gli interventi molteplici legislativi hanno ridotto l'ambito di applicazione e la portata del principio stancito dall'articolo 2740 tuttavia ritengo che è comunque un principio cardine che per derogarlo ci vorrebbe una disposizione un attimo più puntuale è vero però che poi invece una deroga e proprio la 2740 è dato del concordato in continuità perché col concordato in continuità il debitore non dà non mette a disposizione mette semmai a disposizione quello che ricaverà il bene e quindi lì in qualche modo c'è la deroga in re ipsa in qualche modo l'altro settore su cui l'altro fronte sul quale si può aprire per l'appunto la possibilità di deroga è il discorso delle prededuzioni prededuzioni che per l'appunto finiscono di fatto con l'alterare delle cause di l'ordine delle cause per l'azione per antergare dei creditori a tutti gli altri e ancora una volta parliamo soprattutto le problematiche che sono date soprattutto dal concordato in continuità prevalentemente dal concordato in continuità perché genera crediti prededucibili e però da questo punto di vista a differenza di quanto prevedeva la legislazione in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in cui è chiara la subordinazione o almeno la prevalenza di interessi diversi rispetto a quello dei creditori essenzialmente l'interesse alla conservazione dell'impresa e della forza lavoro del livello occupazionale nel caso di concordato in continuità non c'è anzi anzi con proprio con gli interventi che sono stati fatti con il decreto sviluppo del luglio dell'anno scorso in cui per la prima volta il concordato in continuità esisteva già prima del decreto sviluppo come possibilità ma non era praticamente non aveva una disciplina apposita che è stata invece tracciata col 186b introdotto per l'appunto del decreto sviluppo che ha si dice che è una norma che in realtà non favorisce il concordato in continuità piuttosto si preoccupa di mettere dei paletti al concordato in continuità proprio nella consapevolezza secondo me da parte del legislatore che la forma di concordato certamente più vantaggiosa nella misura in cui l'operazione di risanamento dell'impresa riesca ma certamente è anche più pericolosa per i creditori ebbene noi troviamo nel 186b un riferimento alla miglior soddisfazione dei creditori quindi da questo punto di vista c'è una diversità notevole rispetto all'amministrazione straordinaria detto questo invece io spostavo un po' più l'attenzione sulla sul versante il mio ruolo istituzionale d'altra parte lo porta sul versante del controllo riferito ovviamente alle procedure concorsuali essenzialmente al concordato preventivo che è quello che pone maggiori problematiche da questo punto di vista anche se è da dire che noi abbiamo conosciuto dopo più di 60 anni che la legge fallimentare è rimasta praticamente non toccata da interventi del legislatore e a partire dal 2005 noi abbiamo avuto prima questa riforma importante che è quella del decreto legge 35 che poi è stato convertito nella legge numero 80 del 2005 il correttivo del 2007 che ha avuto come d'altra parte il nome stesso lascia intendere ha avuto essenzialmente la funzione di portare delle correzioni a quelle che erano state viste difetti di coordinamento del resto abbastanza semplici cioè imprevedibile nel senso che si innescava una disciplina si innescava una disciplina rispondente a principi completamente diversi rispetto a quelli della disciplina preesistente sul corpo della disciplina preesistente da lì in poi dal 2007 in poi abbiamo avuto una proliferazione di interventi io ho perso il conto non so se qualcuno si è preso la briga di contarli ma penso che siamo sulla decina ormai uno due all'anno di interventi riguardano riguardano le procedure concorsuali si si ma anche poi la frequenza dell'intervento ormai sta diventando veramente abbiamo avuto anche due interventi l'anno di un certo peso l'anno scorso decreto sviluppo e decreto sviluppo bis entrambi hanno modificato le norme misura la qualità del legislatore io penso che misuri sì in parte sì in parte misura anche quello un po' la cultura dei tempi ma forse non dobbiamo dimenticare che sono anche tempi particolarmente tristi dal punto di vista dell'economia e quindi ora poi dire che i rimedi apprestati siano quelli risolutivi o migliori si può dubitare ma comunque diamo questa giustificazione anche e il trend tra l'altro da questo punto di vista io che sono stata prima che giudice delegato o giudice del lavoro per tanti anni e sta diventando come il lavoro anche il lavoro sono ormai 10-15 anni che non è sempre interessato da qualche intervento legislativo non si fa un tempo a stargli dietro sta diventando come per il lavoro e c'è un'altra similitudine tra i due settori ed è quella che nel lavoro a partire dal 2003 hanno cominciato ad apparire qua e là queste norme che ci redarguivano dico io come giudici nel senso di dire molto spesso di dire attenzione il sindacato del giudice è un sindacato di legittimità è un sindacato che non può riguardare il merito delle scelte dell'imprenditore il trend è in qualche misura analogo nel proceduro concorso alio vediamo la riforma del 2005 la riforma interessa molto anche il fallimento oltre che il concordato preventivo e in entrambi i settori porta in qualche misura a una riduzione del potere del giudice del tribunale per il fallimento abbiamo il passaggio dal giudice delegato al curatore della gestione della procedura del potere di direzione della procedura molte delle autorizzazioni che un tempo erano date dal giudice delegato attualmente sono andate dal comitato dei creditori nel concordato preventivo ugualmente assistiamo lì ad una valorizzazione si dice dell'aspetto negoziale di questo istituto rispetto a quello pubblicistico sappiamo che un tempo prima della riforma del 2005 il controllo del tribunale era pacificamente un controllo non solo di legittimità di legalità ma di merito perché bisognava che il concordato fosse la proposta concordataria fosse vantaggiosa per i creditori che ci fosse la ragionevole prospettiva di soddisfacimento di chirografi almeno per il 40% o garanzie in questo senso e anche il requisito della meritevolezza dell'imprenditore cioè che la crisi non fosse attribuibile all'imprenditore stesso e su tutti questi aspetti il tribunale aveva un controllo appunto di merito adesso è sparita sicuramente che il requisito della meritevolezza è scomparso e si dice e direi che questo è un dato acquisito anche dai sostenitori delle tesi che maggiormente cercano di affermare un potere incisivo di controllo del controllare del tribunale è comunque acquisito che la nuova disciplina ha sicuramente valorizzato dato una maggiore importanza all'aspetto negoziale d'altra parte basta fare il confronto tra il vecchio e il nuovo testo dell'articolo 160 attualmente la proposta di concordato non ha un oggetto legislativamente definito può essere assolutamente la più varia da una grandissima libertà alla fantasia degli operatori non lo so io non sono stata giudice delegato ai tempi della vecchia disciplina quindi effettivamente non ho l'esperienza pratica per quel periodo però devo dire che anche adesso con tutte queste possibilità di fatto la maggior parte dei concordati che noi abbiamo sono ancora oggi concordati meramente liquidatori stiamo parlando di un 90-95% di concordati liquidatori sul complesso dei concordati però direi che è altrettanto pacifico che per quanto questo aspetto privatistico negoziale sia stato accentuato rimane un ineludibile aspetto profilo di carattere pubblicistico d'altra parte il concordato l'accordo va omologato e questo ciò solo basterebbe a rendere a dirlo ad affermarlo ma c'è di più però perché a differenza dell'accordo di strutturazione dei debiti dove il controllo del tribunale è per l'appunto un controllo che si attua al momento dell'omologa diversamente accade nel concordato dove c'è un controllo giudiziale sin dal momento dell'apertura della procedura o meglio sin dal momento del deposito della domanda perché il tribunale potrebbe anche non ammettere affatto il debitore alla procedura di concordato la differenza rispetto all'accordo di ristrutturazione ed è la differenza che dà anche la ragione di questo controllo e sa nel fatto che l'accordo di ristrutturazione dei debiti è la somma nient'altro che la somma degli accordi che il debitore raggiunge con i singoli creditori mentre nel caso del concordato è diverso l'accordo che poi una volta che è omologato è obbligatorio ed è obbligatorio anche addirittura per i creditori che non hanno affatto partecipato alla procedura capita i creditori potenziali per dire o comunque chi non non è stato avvisato non si sapeva che era il creditore o comunque i creditori distanzienti sono tenuti poi a rispettare l'accordo o la proposta del concordato omologato anche se appunto hanno espresso voto contrario perché qui l'accordo si forma applicando un principio di maggioranza ed è questo che giustifica e rende necessaria la presenza di un giudice qual è il controllo qual è il controllo che io dissento da lei nel senso che ritengo un attimino meno circoscritto rispetto a quanto da lei descritto su alcuni aspetti non c'è grande non c'è mai stata grande discussione innanzitutto il controllo sugli aspetti diciamo chiamiamoli di carattere formale quindi a partire dall'esistenza stato di crisi di insolvenza a partire dalla qualità di imprenditore fallibile dell'imprenditore che ti fa la domanda a partire dalla competenza la risposta alla competenza e qui cominciamo poi andare invece a quelli più perché questi difficilissimo che non ci siano insomma è un controllo che viene fatto sempre ma è difficile che non ci siano il controllo e poi il controllo sulla regolarità e completezza della documentazione che deve essere allegata alla proposta concordataria c'è un controllo ancora sulla correttezza della formazione dei classi un controllo sulla correttezza riguardo appunto alle cause di prelazione riguardo sia il corretto riconoscimento delle cause di prelazione ma anche il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione c'è poi ancora un importante controllo sulla regole per la sulla correttezza della procedura e soprattutto sulle regole che portano alla formazione della maggioranza e quindi anche qui sulla corretta determinazione dell'ammontare dei crediti che formano la maggioranza e che devono essere ammessi al voto e c'è ancora un ruolo importante che è volto a far sì che sia rispettato il principio del consenso informato e quindi che ai creditori siano date tutte le informazioni utili ai fini dell'espressione di un voto consapevole detto questo la tematica che invece ha questi anni appunto dalla introduzione di forma a oggi ha suscitato le maggiori maggiori dibattini le maggiori divergenze di opinioni è stato il tema il tema della sindacabilità della fattibilità del piano da parte del tribunale partiamo un attimo a capire che cos'è questa benedetta fattibilità premetto è un tema importante perché su questo si gioca effettivamente molto nel senso che ammettere che il tribunale abbia questo sindacato significa dare al tribunale un potere di intervento forte c'è poco da fare la fattibilità cos'è la fattibilità perché la fattibilità è un termine che non è proprio della scienza giuridica piuttosto della scienza dell'economia aziendale è un termine che veniva adoperato in quell'ambito un termine che non compare infatti nelle testi legislativi fino alla riforma del 2005 è un termine che a noi ci ha tanto intrigato ma il legislatore lo usa una volta sola ed è nell'articolo 161 quando parla della relazione del professionista attestatore dicendo che l'attestatore in questa relazione deve essere attestata alla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano cos'è la fattibilità il termine sta a significare più genericamente la probabilità di attuazione di un determinato progetto nel caso specifico è la probabilità di realizzare una prognosi circa la realizzabilità la realizzazione del piano concordatario che a sua volta il piano disegna l'insieme delle azioni che servono a portare a compimento la proposta concordataria e allora su questa cosa si sono registrati dissensi agevolati dal fatto che il testo non è sicuramente di quelli più chiari non lo dico io l'ha detto la Cassazione quando infine ci ha dato una sua lettura e molti commentatori si lamentavano questa mancanza di chiarezza della disciplina legislativa in effetti la tesi la tesi della che ametteva la sindacabilità faceva riferimento soprattutto al 162 della legge fallimentare che dice che in mancanza delle condizioni di ammissibilità dei presupposti di ammissibilità previsti e dal 160 del 161 il tribunale dichiara l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo e per l'appunto si faceva riferimento al 161 dimenticando però che in realtà lì la fattibilità non è prevista in sé ma come oggetto di una di un'attestazione da parte del professionista si argomentava ancora del 162 comma primo che dice che il tribunale può dare un termine al debitore per integrare la documentazione ma anche il piano e quindi si diceva evidentemente questo il tribunale intanto lo può fare in quanto ha effettuato un controllo di merito sulla proposta e sul piano si faceva ancora riferimento al 180 comma quarto che attribuisce in caso di proposizione di che siamo in sede di omologa in caso di presentazione di opposizioni prevede dei poteri istruttori del 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 tribunale ancora il 180 nella parte in cui prevede che il parere del commissario giudiziale venga depositato praticamente nello stesso termine per la proposizione dell'opposizione e quindi si diceva questo parere evidentemente non è rivolto ai creditori che hanno proposto opposizione ma è diretta il tribunale se deve avere qualche funzione è perché il commissario va a segnalargli delle situazioni per l'appunto di non fattibilità però si trattava di tutti elementi non era facile devo dire oggettivamente non era facile sostenere questa tesi sulla base di questi elementi di norma di carattere testuale ciascuno dei quali può essere letto diversamente e così per l'appunto il 161 il 161 parla di attestazione da parte del professionista della fattibilità del piano quindi ciò che è condizione di ammissibilità è una relazione che attesti la fattibilità non la fattibilità in sé il 162 è nient'altro che una norma che è intesa a favorire un leale scambio un dialogo tra il giudice e il proponente il 180 il 180 coma quarto il fatto che il tribunale abbia poteri istruttori nulla dice su che cosa qual è l'oggetto su cui questi poteri devono essere esercitati e quindi qual è l'oggetto il tema decidendo dell'opposizione se poi si considera che le opposizioni possono avere uno spettro molto ampio per dire pacificamente può essere proposta la posizione sulla convenienza e quella è per esempio una delle delle opposizioni che possono richiedere giustificare l'esercizio di questi poteri istruttori in ogni caso abbiamo avuto per l'appunto dopo questo gran dibattito che poi ha assunto nel mondo dei fallimentaristi anche quasi un toni di una contrapposizione molto forte e anche a volte ideologica abbiamo avuto le sezioni unite del gennaio 2013 edici la 1521 se non vada errata che questa è la mia opinione ha sicuramente messo dei paletti ma forse non ha non ha soffito interimmente il dibattito e d'altra parte se leggiamo ancora non ci sono tante almeno edite sentenze dei giudici di merito dopo che si sono pronunciate sul tema dopo ma a leggere opinioni dottrinarie vedo che ognuno ha tirato l'acqua al suo mulino come si suol dire prendendo alcuni punti della motivazione piuttosto che altri per continuare a riproporre delle tesi in ogni caso alcuni punti fermi ci sono stati dati dalla Corte di Cassazione che sono quelli intanto ha detto con certezza che al tribunale non spetta la valutazione della fattibilità economica perché si tratta di valutazioni fisiologicamente di ordine probabilistico che hanno anche una impronta soggettiva ineludibile e quindi nel sistema è coerente che questo tipo di valutazioni al pari di quelle della convenienza che fermo restando che sono due concetti diversi siano demandati al giudizio dei creditori nel fare questo ha al tempo stesso sottolineato l'importanza del controllo del tribunale sulla relazione che attesta la fattibilità e quindi intanto sulla completezza delle analisi effettuate dal professionista attestatore per arrivare a poi l'attestazione di veridicità aziendale che costituisce l'ovvio la precondizione per poi dire che il piano è fattibile la coerenza delle argomentazioni esposte la logicità delle argomentazioni esposte e la coerenza delle conclusioni raggiunte rispetto alle premesse e questo sottolineo perché a volte la sentenza delle sezioni unite viene citata quasi a dire il tribunale non deve proprio più mettere becco sulla proposta di concordato sul piano e sulla documentazione allegata e ancora ci dice la Cassazione che l'ambito del sindacato del tribunale non muta a seconda della fase in cui il concordato si trova e quindi sia che siamo nella fase di ammissione sia nella fase eventuale di un procedimento di revoca a essenza dell'articolo 173 infine ancora in caso di omologa e anche in presenza di opposizione diceva le sezioni unite e poi faccio un piccolo inciso dopo i poteri del tribunale non mutano dice però fa un'eccezione nel senso di dire in ogni caso ovviamente spetta al tribunale il controllo sulla regolarità della procedura e sulla corretta informazione ai creditori affinché questi possano esprimere per l'appunto un voto consapevole ci parla di un controllo sulla fattibilità giuridica quindi se per caso il piano peraltro è più un problema del piano questo prevede modalità di attuazione della proposta che siano in violazione di norme inderogabili di legge questo sicuramente rientra nei controlli del tribunale detto questo ci sono due affermazioni tre forze affermazioni della corte che però sembrano dare ancora un potere di controllo più incisivo al tribunale uno è quando la corte dice che il professionista attestatore pur non essendo sicuramente un consulente se non altro perché la nomina non è del tribunale ma è del debitore tuttavia può essere considerato alla strega di un ausiliario del giudice anche in considerazione delle qualità di indipendenza che deve attualmente rivestire e che quindi le conclusioni le conclusioni del di questo ausiliario possono essere disattese e il controllo del giudice sulla sua relazione non è un controllo di secondo grave l'altra cosa che la corte è un accenno nella motivazione quando parla di rilievo da parte del tribunale del dato che appare prima faccia evidente della inidoneità della proposta a assicurare un soddisfacimento dei creditori infine quando parla della causa causa concreta del concordato che identifica con nella tanto ovviamente nella regolazione della crisi di impresa ma anche nel nel fatto che la proposta deve assicurare un soddisfacimento minimale quanto meno minimale dei creditori nei tempi previsti dallo stesso piano cose che per l'appunto lasciano lasciano questi tre spunti della sentenza lasciano forse sopravvivere dei poteri di controllo ancora anche se personalmente sono convinta che poi non si può far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta tuttavia forse qualche spazio di intervento è sopravvissuto o vedo o vedo comunque della dottrina sostenere per l'appunto questa questa cosa e niente ma adesso per il momento non mi ricordo se devo aggiungere altro quindi per il momento mi fermerei sì non mi viene in mente grazie anche alla dottoressa Tanasio per questa circostanziata illustrazione anche della posizione di chi valuta ecco dall'altra parte della barricata anche accordi di questo tipo quanto meno non esageriamo quanto meno appunto nella valutazione anche di meritevolezza per quanto se la Cassazione deve intervenire a sezioni unite evidentemente le problematiche sono ancora in piedi c'è il fatto particolare che poi la pronuncia viene resa perché la corte la questione che era sottoposta nel suo esame la risolve a monte con una digrazione di inammissibilità ritenendo l'inammissibilità del reclamo ciò nonostante si prende carico di svolgere la sua funzione non filattica ritenendo l'appunto questione della massima importanza della massima importanza certo intervenendo a sezioni unite appunto la Cassazione ha questa funzione di nomofilachia in questo caso anche se dalla indicazione che le stesse ci dà del dibattito dottrinale che ne è conseguito immagino che ancora la questione non sia del tutto sopita ancora ecco quindi avremo dunque ancora di dibattiti a cui assistere forse appunto per questo dicevamo sin dall'inizio che questo è solo l'inizio anche oggi in questo incontro non abbiamo che iniziato sulla materia e sul punto in questo genere di problematiche essenziale e altresì anche la funzione e il ruolo del notaio il notaio interviene anche egli in nella sua veste di pubblico ufficiale in diversi segmenti della procedura ma io perché questo sia più circostanziatamente individuato cedo subito la parola al dottor Paolo Carbone il nostro notaio che ci illustrerà appunto qual è il ruolo di questo professionista in questi ambiti prego notaio grazie bene allora io voglio dire innanzitutto prima di cominciare due cose la prima sarò breve non vi preoccupate la seconda è quando l'ultima volta che lo sentite è durata quattro ore la relazione la seconda è che vi chiedo subito scusa perché io ho modificato il titolo del dialogo a mio uso e consumo per cui non si chiama la responsabilità patrimoniale del debitore tra autonomia privata e controllo giudiziale ma la responsabilità patrimoniale del debitore tra autonomia privata e controllo notarile quindi mi sono a parte di scherzi in realtà è chiaro che il mio ruolo qui è quello fondamentalmente di trattare del ruolo del notaio nell'ambito di queste procedure nell'ambito della procedura di concordato preventivo in particolare è chiaro che gli spunti che sono stati forniti dalle relazioni precedenti mi impongono una brevissima introduzione nel senso che come abbiamo sentito da più parti è vero che la riforma del diritto fallimentare ha privatizzato il diritto fallimentare è anche vero come diceva il professor Tamponi che più che privatizzazione questa è una negozialità un'apparenza di negozialità citandolo però è anche vero che se noi per privatizzazione intendiamo un arretramento o comunque un nuovo ruolo da parte degli organi giurisdizionali che sono gli organi di emanazione pubblica a vantaggio diciamo di un ruolo più operativo degli organi di emanazione privatistica cioè del comitato dei creditori fondamentalmente del curatore allora questo è innegabile che ci sia nella nuova legge fallimentare è innegabile anche che nelle soluzioni negoziate della crisi quali appunto il concordato preventivo questo diciamo questo nuovo questo nuovo diciamo il ridisegno diciamo di queste procedure ha portato ad un maggior successo di queste nel senso che prima della riforma del 2005 della legge fallimentare i concordati erano pochissimi proprio per l'eccessiva rigidità del sistema normativo che come hanno detto i relatori prima di me imponeva la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati e almeno il 40% dei creditori chirografari cosa che oggi naturalmente non c'è più e quindi assistiamo ad una come dire ad un maggior numero di concordati sono presentate tantissime domande di concordato forse addirittura troppe forse addirittura c'è un un abuso dello strumento tant'è che il legislatore poi nel 2013 col decreto del fare è dovuto reintervenire cercando di limitare appunto l'abuso di questo strumento utilizzato proprio per ottenere una separazione del patrimonio del debitore quindi una limitazione un ombrello protettivo al patrimonio del debitore veniamo però a quello che è appunto il ruolo del notaio nel procedimento diciamo di concordato nella procedura di concordato il ruolo del notaio si esplica in varie fasi del concordato innanzitutto nella fase di presentazione del concordato naturalmente qui si tratta perché la domanda di concordato nelle società deve essere come dice l'articolo 152 presentata approvata dai soci che rappresentano la maggioranza del capitale nelle società di persone e nelle società di capitali o cooperative deve essere deliberata dagli amministratori in ogni caso questa decisione o questa deliberazione deve risultare da verbale redatto dal notaio ed è depositata e scritta nel registro delle imprese quindi la domanda di concordato deve essere verbalizzata dal notaio naturalmente il controllo che il notaio deve svolgere su questo tipo di verbalizzazione è un controllo di delibera è un controllo di sola legittimità di sola legittimità non si tratta cioè di un controllo di merito il notaio non dovrà naturalmente verificare la fattibilità del concordato non dovrà verificare la situazione di crisi dovrà semplicemente verificare che siano state rispettate le regole di competenza e di formazione della volontà sociale e che la domanda approvi nel caso di concordato non in bianco che nella domanda vi siano contenute anche le condizioni del concordato però il notaio cosa deve fare deve allora garantire che si sia corretto innanzitutto che l'organo che ha assunto la decisione sia l'organo competente perché come abbiamo visto nelle società di capitali la legge attribuisce la competenza agli amministratori naturalmente però è possibile che lo statuto della società deroghi a tale competenza e cioè è possibile che lo statuto attribuisca la competenza ai soci e quindi il notaio naturalmente dovrà fare questa verifica così come dovrà verificare nel caso in cui i competenti siano gli amministratori che gli amministratori non siano in regime di prorogazio per esempio perché in questo caso non è possibile presentare una domanda di concordato in quanto gli amministratori possono semplicemente compiere atti di amministrazione ordinaria anche nelle società di persone è possibile una deroga alla regola che prevede l'approvazione da parte dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale e cioè potrà essere previsto nei patti sociali che sia approvata dalla maggioranza dei soci per test la domanda di concordato o anche dai soli soci amministratori o soprattutto nelle società in accomandita questo è abbastanza frequente dai soci accomandatari e quindi tutte queste verifiche dovranno essere fatte dal notaio e dopodiché appunto potrà ricevere naturalmente il verbale e procedere all'iscrizione al registro delle imprese una volta che sia stato presentato il concordato in bianco il concordato ricordiamo appunto che il legislatore oggi nel 2012 ha previsto accanto diciamo alla precedente domanda di concordato in cui l'imprenditore doveva presentare un piano anche una domanda di concordato cosiddetta in bianco o con riserva e cioè l'imprenditore in crisi può semplicemente presentare una domanda di concordato facendosi fissare un termine entro il quale dovrà presentare il piano concordatario perché il legislatore ha fatto questa riforma e questo è interessante anche perché in relazione a quello che ci diceva prima il professor Tamponi e cioè c'era effettivamente un'esigenza di garantire una protezione all'imprenditore nell'emore della preparazione della domanda di concordato perché la preparazione della domanda di concordato e del piano concordatario poteva richiedere anche molti mesi e durante questi mesi il patrimonio del debitore era assoggettato alle aggressioni da parte dei creditori ed allora che cosa si faceva si ricorreva proprio allo strumento del vincolo di destinazione 2645 ter e cioè veniva stipulato sempre con atto notarile un vincolo di destinazione dei beni del patrimonio del debitore per soddisfare i creditori a favore di tutti i creditori dell'impresa al fine di provvedere alla soddisfazione delle loro ragioni secondo il rispettivo grado di precedenza questo vincolo veniva utilizzato proprio per poter bloccare le azioni esecutive individuali dei creditori che erano naturalmente idonee poi suscettibili di bloccare la domanda di concordato quindi di pregiudicare il buon fine del concordato però questo vincolo presentava due problemi il primo problema che poteva avere riguardo solo ai beni immobili naturalmente ma il secondo problema era proprio quello di cui ci parlava il professor Tamponi e cioè che non tutta la giurisprudenza riteneva questo vincolo sorretto del requisito della meritevolezza richiesto dal 2645 proprio perché per esempio il tribunale di Verona riteneva che il requisito della meritevolezza fosse qualcosa in più della liceità e che quindi in questo caso questo requisito non vi fosse e quindi questi vincoli venivano o revocati o secondo altra tesi addirittura considerati nulli proprio per venire incontro a questa esigenza oggi la legge fallimentare invece consente la presentazione del concordato in bianco con quindi semplicemente l'apertura dell'ombrello protettivo nel momento in cui l'imprenditore decide di presentare la domanda di concordato anche se non è ancora pronto il piano questo quindi da un lato tutela naturalmente l'imprenditore da un altro lato rende diciamo più difficile anche il ruolo del notaio e vedremo perché perché naturalmente qui si parla di controllo giudiziale e si è parlato giustamente dell'omologazione del concordato ma il controllo giudiziale nel concordato non si esplica solo al momento dell'omologazione ma si esplica anche durante la procedura di concordato attraverso le autorizzazioni che il giudice deve dare a determinate operazioni poste in essere dal debitore che abbia presentato una domanda di concordato diciamo che oggi nel 99 probabilmente l'attoressa Mattanasio confermerà nel 99,9 periodico per cento delle volte la domanda di concordato è in bianco cioè appena l'imprenditore ha una mezza idea che non riesce a pagare qualcosa subito presenta la domanda di concordato in modo da bloccare tutto ed allora l'iter diciamo classico è presentazione della domanda di concordato fissazione del termine presentazione poi del piano concordatario finita? ah beh arrivederci allora bene arrivederci grazie no e allora la prima questione che si è posta è già fine la ricreazione non andate sarò breve allora la questione che si è posta è l'iter è questo abbiamo detto mi sono perso il segno presentazione della domanda in bianco e poi predisposizione del piano e presentazione del piano dov'è che deve intervenire il notaio quando io presento la domanda in bianco oppure quando presento il piano cioè il momento della verbalizzazione del controllo notarile è necessario nel momento della presentazione della domanda in bianco o successivamente allora una giurisprudenza ha sostenuto che in realtà la domanda in bianco non è una vera e propria domanda di concordato ma è una istanza con funzioni organizzative per cui non sarebbe necessaria la verbalizzazione notarile e la quale invece sarebbe necessaria al momento in cui l'imprenditore presenta il piano perché è quello dicono il tribunale di Pistoia mi sembra che sia dicono che è quello il momento importante in cui l'imprenditore svela il piano concordatario e quindi è quello il momento in cui è necessaria la verifica notarile in realtà questa teoria è assolutamente minoritaria perché oltre a contraddire il fatto che in realtà il notario ripeto svolge un controllo di mera legittimità per cui questo controllo è esattamente lo stesso nella presentazione della domanda in bianco o nella presentazione della domanda colorata il contrario della domanda col piano il nero non mi piace il bianco il nero allora quindi in realtà il momento importante è da identificare nel momento in cui si producono gli effetti del concordato non nel momento in cui il concordato ha il suo piano e quando è che si producono gli effetti c'è il famoso ombrello protettivo di cui parlavamo prima c'è la insensibilità del patrimonio del debitore alle pretese dei creditori anteriore al concordato senza nessun dubbio questi effetti si producono al momento della presentazione della domanda in bianco della proposta di concordato quindi senza che ci sia la proposta senza che ci sia il piano concordatario ed è quindi in questo momento che il notario deve intervenire in questo momento che il notario deve verbalizzare e solo in questo momento non ci sarà poi bisogno più della verbalizzazione notarile al momento in cui sarà pronto invece saranno pronte le condizioni di concordato vediamo quindi una volta quindi appunto esaminato il ruolo al momento della presentazione del concordato naturalmente il concordato poi produce determinati effetti di alcuni abbiamo già parlato cioè gli effetti nei confronti dei creditori e cioè questi non possono iniziare a proseguire le famose azioni esecutive e cautelari e discusso se sia possibile protestare un imprenditore che abbia presentato una domanda di concordato in realtà si dice che il protesto è possibile elevarlo cioè il notaio deve elevare il protesto perché il concordato sospende le azioni esecutive ma non sospende i pagamenti e quindi qualora fosse presentato al protesto un titolo di credito emesso da un'impresa in concordato questo potrebbe anzi dovrebbe essere protestato altro effetto è quello dell'articolo 169 o meglio altro effetto è quello dell'articolo 169 che cosa dice l'articolo 169 della legge fallimentare 169 bis scusate dice che nel momento in cui si presenta la domanda di concordato ve lo leggo che è meglio non me lo ricordo dice che il debitore può chiedere al tribunale che il tribunale o dopo il decreto di ammissione il giudice delegato l'autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso oppure può essere autorizzata anche la sospensione del contratto ora è discutibile che questa norma che consente quindi al debitore di chiedere lo scioglimento o la sospensione dei contratti in corso sia applicabile al concordato in bianco e anzi l'opinione prevalente in giurisprudenza è che siccome il concordato in bianco non si sa ancora che tipo di concordato il debitore presenterà il giudice non dispone degli elementi sufficienti a valutare se sia possibile sciogliere un contratto beh forse sospenderlo in realtà sì ma scioglierlo sicuramente no e quindi attraverso un'interpretazione come dire evolutiva fantasiosa ma comunque probabilmente dal punto di vista sistematico corretta si sostiene che non sia possibile in caso di concordato in bianco sciogliersi chiedere l'autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso a meno che non si forniscano al giudice tutte le informazioni sufficienti a valutare e quindi di fatto poi il concordato non diventi da concordato in bianco a concordato colorato diciamo e peraltro questo è importante per quanto riguarda l'attività notarile questa attività questo diritto di sospensione e scioglimento dei contratti non può essere esercitato in nessun caso nel caso di contratti preliminari trascritti di immobile a uso abitativo destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente sui parenti a fine entro il terzo grado oppure questa è una novità di immobili non abitativi destinati a costituire la sede principale dell'impresa naturalmente nel caso in cui il promittente alienante presenti una domanda di concordato per cui un contratto preliminare notarile trascritto non potrà essere sciolto all'esito di una domanda di concordato e la giurisprudenza ha ritenuto applicabile questa norma anche nel caso di contratto preliminare relativamente al quale sia stata trascritta la domanda di esecuzione in forma specifica tra l'altro questo per inciso mentre non è possibile inserire in un contratto una clausola che faccia dipendere lo scioglimento la risoluzione dello stesso dal fallimento è possibile inserire in un contratto naturalmente non con un preliminare trascritto ma insomma un contratto una clausola che faccia dipendere l'automatico scioglimento dello stesso dalla presentazione della domanda di concordato senza quindi necessità di richiedere l'autorizzazione giudiziale veniamo quindi adesso agli effetti per il debitore cioè questo abbiamo visto gli effetti del concordato nei confronti dei creditori nei confronti del debitore invece gli effetti del concordato sono innanzitutto che se il debitore è una società di capitali non è obbligato non si applicano le norme sulla riduzione del capitale obbligatorio per perdita al di sotto del minimo legale e non opera la causa di scioglimento riduzione per perdita del capitale sociale questa norma potrebbe creare dei problemi nel senso che sono capitati dei casi in cui alcuni imprenditori pur non obbligati alcune società pur non obbligate venivano poste in liquidazione al momento della presentazione della domanda di concordato perché come in gran parte dei casi era previsto un concordato liquidatorio poi successivamente veniva mutata per una sopravvenienza la natura del concordato e la società chiedeva la revoca dello stato di liquidazione senza che però naturalmente fosse eliminata la causa di scioglimento perché noi sappiamo che normalmente se io metto in liquidazione una società perché la società non ha il minimo capitale minimo se voglio revocare lo stato di liquidazione devo prima rimuovere la causa di scioglimento naturalmente questo principio non si applica nel caso di un'impresa inconcordato nel senso che siccome questa impresa non era obbligata a deliberare la liquidazione così nello stesso modo potrà revocare la stessa senza che abbia eliminato o rimosso la causa di scioglimento ecco ecco quindi che per il debitore vengono come dire in evidenza tutte le norme che impongono diciamo un controllo che pongono il patrimonio del debitore sotto un controllo del giudice naturalmente il controllo di cui il notaio deve tenere conto al momento in cui questo presenta una domanda di concordato perché anche qui c'è stata una modifica legislativa nel senso che prima del decreto di sviluppo del 2012 nulla era detto in ordine agli effetti sul patrimonio del debitore della presentazione della domanda di concordato cioè una volta che il debitore aveva presentato la domanda di concordato si riteneva pressoché pacificamente che lo stesso fosse pienamente in grado di disporre dei propri beni cioè poteva tranquillamente compiere atti ordinali e straordinari di amministrazione senza dover chiedere autorizzazioni anche perché non c'era un'autorità giudiziaria competente perché il giudice delegato non era ancora stato nominato qualcuno diceva che bisognasse chiedere l'autorizzazione al tribunale ma in realtà non c'era una norma cioè una volta che il debitore aveva presentato la domanda di concordato in realtà nulla era cambiato dal punto di vista della sua capacità diciamo e della sua autonomia negoziale naturalmente questo in teoria perché poi in pratica il compimento di determinati atti poteva poi pregiudicare l'ammissione al concordato oggi il legislatore è invece espressamente intervenuto con l'articolo 161 nel quale dice che gli atti urgenti dopo la presentazione della domanda di concordato gli atti urgenti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal tribunale la prima questione che si è posta con riferimento a questa norma è ma questa norma si applica sempre a tutti i tipi di concordato o solo al concordato in bianco in realtà perché la norma è stata diciamo è stata introdotta dal decreto sviluppo cioè quella che ha introdotto il concordato in bianco in realtà la teoria prevalente ritiene che questa norma sia applicabile quindi che il controllo giudiziale in questa fase sia limitato al solo concordato in bianco perché la norma sarebbe una sorta di contrappeso al privilegio che si dà al debitore di presentare la domanda di concordato senza avere pronto il piano quindi io posso presentare una domanda di concordato senza avere pronto il piano però gli atti urgenti di straordinaria non posso fare nulla devo stare fermo posso fare solo gli atti urgenti posso fare l'ordinaria amministrazione e gli atti urgenti di straordinaria amministrazione tra l'altro che devono essere autorizzati che vuol dire un secondo problema è che vuol dire atti urgenti di straordinaria amministrazione allora qua quando si parla di ordinaria di straordinaria amministrazione credo che dai minori agli incapaci all'accettazione di realità come beneficio di inventario si legge sempre la stessa cosa e cioè che sono atti di ordinaria amministrazione gli atti conservativi e sono atti di straordinaria amministrazione gli atti pericolosi che non vuol dire niente sta roba in realtà e quindi anche qua l'hanno ripetuta cioè qua ci sono dei giudici delle decisioni che dicono sì vabbè l'atto di ordinaria amministrazione è quello conservativo l'atto di straordinaria amministrazione è quello potenzialmente pericoloso in realtà qui la norma richiede qualcosa in più oltre alla straordinaria amministrazione ma richiede cioè anche l'urgenza quindi sono ben pochi gli atti che l'imprenditore potrà essere autorizzato a compiere in questa fase ed allora sinceramente io non ho capito una decisione del tribunale di Modena la quale ha detto il quale ha detto che nel caso di società immobiliare cioè società che ha per oggetto la compraventa di immobili sarebbe possibile procedere alla stipula di atti di compraventa di immobili dopo la presentazione della domanda di concordato in bianco senza richiedere autorizzazione perché sarebbe ordinaria amministrazione in realtà secondo me non è così non è ordinaria amministrazione ma soprattutto non è nemmeno straordinaria amministrazione nel senso che l'atto dovrà essere soggetto dovrà essere richiesta per l'atto l'autorizzazione e l'autorizzazione potrà essere concessa solo se l'atto è urgente infatti questa è la teoria che seguono altri tribunali che cosa succede se il notaio fa l'atto e si dimentica dell'autorizzazione naturalmente sosterrà che l'atto è di ordinaria no succede che l'atto è valido naturalmente validissimo ma è inefficace nei confronti dei creditori la norma non prevede sanzioni ma si richiama l'articolo 167 che è la norma che è detta la disciplina autorizzatoria degli atti dopo la missione del concordato quindi l'atto è valido ma inefficace potrà a limite pregiudicare l'ammissione dell'imprenditore al concordato inefficace vuol dire che potrà essere ratificato con un'autorizzazione successiva ma naturalmente non si applica l'articolo 28 l'atto non è nullo e non è nemmeno annullabile credo dopo la missione del concordato invece c'è la norma c'è la norma che è l'articolo 167 comma 2 legge fallimentare che si apre così si apre durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni quindi qua si avrebbe un caso di limitazione della responsabilità del debitore quindi di deroga all'articolo 2740 con conservazione da parte del debitore dell'amministrazione dei suoi beni in realtà non è esattamente così perché innanzitutto c'è la vigilanza del commissario giudiziale e poi tutta una serie di atti che sono esemplificativamente elencati nel secondo comma dell'articolo 167 i mutui le transazioni i compromessi le alienazioni di beni immobili le concessioni di ipoteca eccetera devono essere anche questi autorizzati questa volta dal giudice delegato perché dopo l'ammissione del concordato naturalmente c'è il giudice delegato e allora ci si è chiesto innanzitutto se l'elencazione della norma sia un'elencazione tassativa e si è risposto che non è tassativa e cioè si è detto fermo restando che per tutti gli atti elencati dalla norma è necessaria sempre l'autorizzazione e quindi ancora meno io capisco la decisione del tribunale di Modena perché se dopo l'ammissione del concordato tu per compiere una vendita immobiliare anche se hai per oggetto la compravendita di immobili devi chiedere l'autorizzazione allora perché prima quando addirittura il legislatore richiede l'urgenza non la dovresti chiedere? e quindi ci è chiesto quali sono gli atti di straordinaria di amministrazione e si è risposto dicendo che tutti gli atti elencati dall'articolo 167,2 sono atti di straordinaria di amministrazione e quindi vanno autorizzati per quanto riguarda invece gli atti non indicati la solita cosa se sono conservativi sono di ordinaria se sono pericolosi sono di straordinaria e qua però ci sta perché non è richiesta l'urgenza un'altra volta allora vendita immobiliare in esecuzione di un preliminare stipulato prima del concordato autorizzazione perché in realtà la giurisprudenza ha detto nel caso in cui la caparra fosse bassa converrebbe l'inanempimento poi atti contenuti nel piano perché naturalmente se il concordato è liquidatorio il debitore nel piano può inserire naturalmente la serie di atti di straordinaria amministrazione però se il piano non è ancora stato approvato con l'omologa del concordato anche per questi atti è necessario chiedere l'autorizzazione quindi prima dell'omologa è necessario chiedere l'autorizzazione anche per gli atti che sono indicati nel piano poi come devono essere fatte queste vendite allora ricordiamo che dopo l'omologa c'è una norma di cui poi parleremo che richiede l'applicazione delle norme in materia di liquidazione competitiva richiamate in materia di fallimento qua questa norma non è richiamata e quindi malgrado qualche opinione contraria si dice qui la vendita può avvenire normalmente a trattativa privata per cui dopo l'ammissione del concordato la vendita avviene con autorizzazione a trattativa privata un altro principio collegato diciamo alla limitazione della responsabilità del debitore è quello della pubblicità e cioè in teoria le cause che prevedono una diseparazione di una parte del patrimonio di un soggetto rispetto alla restante parte del suo patrimonio quindi le deroghe all'articolo 2740 sono spesso assoggettate ad un'autonoma forma di pubblicità nel senso che i terzi devono quantomeno essere avvertiti del fatto che si è verificata questa separazione patrimoniale naturalmente per il fallimento per il concordato è la stessa identica cosa cioè gli effetti del concordato sul patrimonio del debitore ricorrono dalla data di deposito del ricorso ma nei confronti dei creditori decorrono dalla data in cui questo ricorso viene pubblicato nel registro delle imprese che è il giorno successivo al deposito in cancelleria della domanda a norma dell'articolo 161 quindi diciamo in coerenza con quanto stabilito nel fallimento per cui gli effetti decorrono sempre dalla pubblicazione del registro delle imprese della sentenza in quel caso qui gli effetti si producono dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese c'è però una norma strana che è richiamata dall'articolo 169 della legge fallimentare con riferimento alla pubblicità ed è l'articolo 45 della legge fallimentare che cosa dice l'articolo 45 l'articolo 45 dice che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi se compiute dopo la data di dichiarazione di fallimento sono senza effetto rispetto ai creditori cioè vuol dire in pratica per parlare con un gergo notarile che se io faccio un atto di vendita non solo l'atto lo devo fare prima della pubblicazione del registro dell'impresa della domanda di concordato ma lo devo anche trascrivere prima della pubblicazione del registro dell'impresa della domanda di concordato quindi perché se io lo faccio prima ma lo trascrivo dopo la trascrizione è inefficace nei confronti dei creditori e quindi il bene di fatto l'acquirente soccombe rispetto ai creditori diciamo del concordato chiamiamoli così e questo vale per tutte naturalmente ho parlato di trascrizione perché per deformazione professionale ma vale per tutte le formalità pubblicitarie cioè anche per la cessione del credito che deve essere notificata o anche per i beni mobili registrati che devono essere il cui trasferimento deve essere trascritto in appositi registri quindi tutte le formalità pubblicitarie devono essere eseguite prima della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato poi ci sono alcuni casi come dire un po' spinosi un personaggio una figura un po' come dire ambigua è il socio illimitatamente responsabile della società di persone nel senso che è un personaggio che si aggira nei nostri studi ed è molto pericoloso perché non ci ha scritto da nessuna parte che lui è socio illimitatamente responsabile nelle società di persone magari fallita perché non c'è pubblicità cioè se fallisce una società di persone noi sappiamo che c'è il fallimento per estensione dei soci il socio che ma questo fallimento per estensione non è in alcun modo pubblicizzato allora ci si è domandati se un soggetto è socio ha responsabilità illimitata di una società di persone che ha presentato una domanda di concordato gli effetti diciamo di limitazione alla sua facoltà di disporre dei propri beni quindi le autorizzazioni di cui ho parlato prima si applicano anche con riferimento al patrimonio del socio allora da un lato bisognerebbe dire di sì perché l'effetto sdebitatorio e anche l'effetto protettivo della presentazione della domanda di concordato certamente hanno effetto anche sul patrimonio del socio illimitatamente responsabile quindi si dovrebbe dire siccome il socio è limitatamente responsabile alla fine del concordato non ha più debiti e è sdebitato e siccome i creditori non possono attaccare i suoi beni al momento della presentazione della domanda di concordato allora coerentemente lui dovrebbe chiedere le autorizzazioni per vendere anche i propri beni in realtà non è così perché la norma che prevede l'estensione il fallimento per estensione è pacificamente considerata norma eccezionale e quindi mentre il debitore è l'imprenditore la società quindi in questo caso può fallire è sottoposta alle limitazioni di cui parlavamo prima il socio illimitatamente responsabile è soggetto esterno non imprenditore il quale può liberamente disporre dei propri beni naturalmente si tratta di una libertà vigilata potremmo dire nel senso che è chiaro che lui può disporre dei suoi beni ma siccome il concordato potrebbe non andare a buon fine e siccome se il concordato non va a buon fine potrebbe esserci il fallimento anche se non è automatico se ci fosse il fallimento l'azione revocatoria potrebbe essere esperita anche nei confronti del atto dispositivo posto in essere dal socio non solo potrebbe essere esperita ma noi sappiamo che per il concordato i termini dell'azione revocatoria si bloccano cioè decorrono dal momento della presentazione della domanda e quindi tutto il periodo in cui c'è il concordato non è considerato ai fini dell'azione revocatoria per cui se l'imprenditore in concordato fallisce perché non viene ammesso o perché viene revocata l'ammissione l'azione revocatoria può essere esperita con riferimento alla data di pubblicazione nel registro dell'impresa della domanda di concordato e questo vale anche per l'azione revocatoria diretta agli atti dispositivi da parte del socio illimitatamente responsabile poi c'è ancora un po' di tempo un'ultima un'ultima questione è quindi quella della che cosa diciamo siccome il 95% dei concordati sono concordati liquidatori molti concordati cioè sono tutti con la cessione dei beni se ci sono beni naturalmente allora vediamo che cosa succede quali sono e se ci sono limitazioni alla facoltà di disporre del debitore e quindi verifiche che il notario deve fare nel momento in cui il concordato venga omologato allora se il concordato viene omologato e consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente dice la norma il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione poi ci dice che si applicano i liquidatori le norme in materia di curatore e alcune incompatibilità e poi si applicano al comitato di creditori gli articoli 40 e 41 che sono norme che dettono la composizione del comitato di creditori e che le vendite di aziende e rami di aziende di beni immobili e altri beni scritti in pubblici registri nonché le cessioni di attività e passività delle aziende e di beni o rapporti giuridici individuati in blocco devono essere autorizzati dal comitato dei creditori e poi si applicano le norme in materia di liquidazione competitiva prevista dalla legge fallimentare nel caso di fallimento quindi di fatto che succede caso disciplinato dal legislatore quindi in assenza di diverse disposizioni da parte del piano concordatario c'è una sorta di fallimentarizzazione si dice della liquidazione concordataria per cui se il concordato non dispone diversamente in pratica si realizza un meccanismo analogo a quello della cessione dei beni ai creditori cioè il patrimonio del debitore dopo il concordato omologato non viene trasferito ai liquidatori ma i liquidatori sono dei mandatari o il liquidatore è una sorta di mandatario del debitore che procede alle vendite come procede alle vendite secondo quanto stabilito dall'articolo 182 quindi deve chiedere l'autorizzazione al compitato dei creditori e se si tratta di vendite di immobili o di aziende deve fare le procedure competitive dell'articolo 105 e seguenti della legge fallimentare e questo è il caso tipico di comodato con cessione dei beni che ricalca ripeto lo schema della cessione dei beni ai creditori naturalmente come la cessione dei beni ai creditori deve essere trascritta così deve essere trascritto il decreto di omologa cioè il decreto si troverà trascritto il decreto di omologa del concordato con cessione dei beni da quel momento naturalmente i terzi saranno resi edotti della limitata possibilità di disposizione della limitata di disposizione dei beni o meglio del fatto che dei beni dispone non più il debitore ma il liquidatore e nel caso di compimento la parte del liquidatore di uno degli atti indicati nell'articolo 182 naturalmente il notario osserverà le disposizioni richiamate e quindi questo è il caso classico cioè caso tipico caso di concordato con cessione dei beni senza che sia stabilito diversamente dal piano però la norma prevede questa norma in realtà è una norma derogabile è previsto dalla norma stessa cioè è previsto che il piano concordatario possa prevedere delle modalità diverse e allora innanzitutto la questione è entro quali limiti si possa derogare a questa norma e alcuni una tesi più restrittiva sostiene che la norma sia derogabile soltanto diciamo per quanto riguarda la nomina dei liquidatori cioè il debitore potrebbe disegnare il liquidatore ma non potrebbe in nessun modo derogare alle modalità di vendita cioè non potrebbe escludere la necessità dell'autorizzazione del comitato dei creditori ma soprattutto non potrebbe escludere il ricorso a procedure competitive questa tesi è stata sostenuta anche da una giurisprudenza di Cassazione ma è stata però smentita o meglio comunque non accolta dalla giurisprudenza dominante e anche dalla dottrina la quale giustamente ritiene che la norma sia ampiamente derogabile e che anzi ci sono numerosi casi di cosiddetti concordati chiusi cioè in cui il debitore stesso predetermina nel piano non solo le modalità delle vendite ma a volte anche i soggetti acquirenti degli immobili stessi e quindi in questo caso sarebbe addirittura come dire controproducente richiedere l'autorizzazione al comitato dei creditori perché in caso di mancata autorizzazione si andrebbe a inficiare l'esecuzione di un concordato che è stato già omologato e per quanto riguarda poi il ricorso alle procedure competitive anche in questo caso non è assolutamente pacifico che la procedura competitiva abbia maggiori vantaggi rispetto alla trattativa privata e anzi se appunto il piano concordatario prevede una venda a trattativa privata e questo piano è stato votato dai creditori e omologato dal giudice a quel punto il ricorso a procedure competitive sembra soltanto un aggravio inutile e ultroneo questione però interessante è quale sia la natura delle vendite eseguite in esecuzione del piano di concordato allora qui ci sono due tipi come abbiamo visto di concordato omologato concessione dei beni quello in cui il debitore non dice nulla e quindi le vendite vengono fatte con le procedure competitive in quel caso si sostiene che sebbene non si sia tecnicamente in presenza di una vendita coattiva perché in realtà la vendita non avviene contro la volontà del debitore perché qui c'è un concordato e non un fallimento però il procedimento è analogo a quello delle vendite coattive e questo dal punto di vista pratico è importante per vari aspetti tipo l'esclusione secondo la giurisprudenza del diritto per esempio di prelazione urbana o di prelazione agraria in questi casi perché la vendita coattiva è importante perché si ritiene che si possano cancellare le ipoteche con decreto essenzio dell'articolo 108 della legge fallimentare al contrario invece se la vendita viene in esecuzione di un concordato chiuso qua c'è un problema pratico nel senso che siccome non è una vendita coattiva ma è una vendita diciamo negoziale un contratto di diritto privato se il bene come capita spessissimo è gravato da formalità pregiudizievoli per cancellare queste formalità pregiudizievoli sarà necessario o il consenso del creditore e la vedo abbastanza difficile o la sentenza del giudice quindi prima di procedere a una vendita in esecuzione di un concordato omologato bisognerà verificare anche che tipo di concordato è stato omologato perché il procedimento da seguire è diverso a seconda come abbiamo visto del tipo di concordato e poi un'ultimissima cosa le operazioni sono stato breve però le operazioni straordinarie poste in estere dalle società durante il concordato quindi per esempio fusioni scissioni trasformazioni se e come si possono fare allora naturalmente queste possono intervenire in varie fasi del concordato nessun problema se avvengono dopo l'omologazione naturalmente in esecuzione di un piano si possono naturalmente fare senza richiedere alcuna autorizzazione possono però essere diciamo deliberate o addirittura anche eseguite sia pure in casi molto rari direi più di scuola anche prima dell'omologazione del concordato allora come tecnica regazionale in linea di massima va detto che la innanzitutto che la modifica del patrimonio del debitore avviene a seguito dell'atto e non già della delibera quindi se l'atto viene posto in essere in una delle fasi in cui è necessaria l'autorizzazione sarà necessario chiedere appunto l'autorizzazione per l'atto mentre per la delibera questa autorizzazione non sarà necessaria però la delibera deve essere condizionata all'omologazione del concordato cioè se io presento un concordato in bianco o con piano delibero una fusione durante la fase del termine che mi ha fissato il giudice questa delibera dovrà essere non dovrà essere autorizzata se nella delibera stessa sarà contenuta la condizione dell'omologazione cioè che gli amministratori potranno fare l'atto solo dopo l'omologazione perché condizionare l'atto all'omologazione è una cosa un po' pericolosa perché poi gli effetti della fusione come sappiamo sono irreversibili quindi poi ci sono una serie di rischi che io non correrei per cui si fa la delibera si può fare la delibera nella fase di presentazione del concordato e anche nella fase di ammissione la delibera non deve essere autorizzata se condizionata se non condizionata deve essere autorizzata ma è un caso di scuola perché tanto non verrà autorizzata e successivamente invece si farà l'atto dopo l'omologazione se al contrario l'atto viene fatto nelle fasi precedenti l'omologazione questo dovrà essere autorizzato però anche questo è un caso di scuola perché ripeto poi una volta che magari l'atto è stato autorizzato però poi il concordato non va a buon fine per tutta una serie di motivi è chiaro che gli effetti e la fusione si sono già prodotti e quindi bisognerebbe capire che tipo di rimedi abbiano i creditori probabilmente solo rimedi di natura obbligatoria cioè non è che si possono far rivivere le società che sono state magari incorporate o sono state fuse e quindi direi che se proprio si devono fare questi atti quando si devono fare questi atti è necessario sempre inserire la condizione dell'omologazione e ripeto è necessario chiedere l'autorizzazione solo in caso di atto io avrei finito grazie anche al notaio Carbone che ci fa capire con tutta l'indicazione della tematica più attinente alla funzione notarile come pure i notai si debbano misurare con procedimenti procedure formalità e con tempi anche di osservanza della procedura stessa non di poco conto quindi un ruolo fondamentale importante a questo punto mi pare di capire che veramente la tutela del creditore o se guardiamo dall'altro lato la posizione del debitore nel giudizio di responsabilità patrimoniale rappresenti e costituisca proprio un prisma attraverso cui guardare nelle diverse sfaccettature tutti i profili problematici sempre di questa disciplina come tutti sanno in questi incontri c'è anche la possibilità di dialogare appunto non solo tra professioni e tra accademia ma anche attraverso domande quei siti che vengono posti se volete anche tutto come stato l'ho detto oltre che chiedere il viso non mi fate solo il viso e dunque lascerei questo spazio che ci resta anche alla appunto alla libertà insomma vostra di porre domande o questioni o richieste di chiarimenti o puntualizzazioni insomma ecco o critiche o eccezioni appunto appunti che si possono svolgere è vero che la materia è ancora soprattutto dopo l'intervento delle recentissime norme ancora in fase di metabolizzazione immagino sia da parte degli studiosi anche da parte di chi sta applicando e applica queste norme peraltro poi quando si pronuncia la giurisprudenza anche sulle questioni e penso per esempio alla sentenza delle sezioni unite che citava la dottoressa Tanasio immagino dunque che non si faccia altro che avviare una discussione ma proprio perché si è in una fase di dialogo di discussione aperta forse possiamo potremmo cominciare a disquisire a discutere forse già da da oggi se ci sono questioni appunto da sottoporre il notaio Cimino il notaio Andrea Cimino grazie buonasera una domanda per il professor Tamponi visto che il notaio Carbone ha dichiarato la sua indisponibilità mi preoccupa da operatore concreto l'affermazione del professore in ordine al significato da attribuire nella norma del 2645 ter alla meritevolezza degli interessi e secondo il professore non coinciderebbe con la liceità a dimostrazione di ciò il professore faceva riferimento al fatto che la norma parla espressamente di persone con disabilità pubblica amministrazioni però poi c'è l'inciso finale che scompagina un po' tutto o altri enti o persone fisiche perché mi preoccupa da operatore concreto del diritto perché io non sono in grado di valutare a priori di fronte a una richiesta delle parti se l'interesse che intendono svolgere sia o meno meritevole in un senso più alto rispetto alla mera liceità sono assolutamente in grado di valutare se l'interesse che loro intendono perseguire è lecito o è lecito ma oltre non riesco ad andare ad esempio se mi si chiede di destinare un bene a tutela diciamo di un genitore anziano anche se questo per esempio non ha particolari problemi di salute io come notaio posso intuire che dietro a questo motivo c'è semplicemente la volontà di segregare quel bene dal proprio patrimonio ed evitare quindi che i creditori lo aggrediscano però credo che sia lecito da parte di un figlio dire io voglio destinare quel bene a far fronte al soddisfacimento dei bisogni di un mio genitore anche perché il genitore magari ha solo 60 anni e gode di ottima grazie effettivamente il problema c'è ed è proprio per questo che l'ho posto e devo aggiungere che la norma è abbastanza equivoca perché nella parte iniziale appunto con il riferimento alle disabilità o all'interesse generale di pubbliche amministrazioni fa pensare che ci sia quel quid pluris rispetto alla mera non illicità e poi apre invece perché utilizza sì utilizza l'espressione alle realizzazioni di interessi meritevoli tutela riferibili a persone con disabilità e qui si capisce lo spirito e l'esigenza di solidarietà a pubbliche amministrazioni e qui si capisce l'interesse generale ma poi aggiunge o altri enti o persone fisiche che è una formula genericissima che dice tutto e non dice niente non solo aggiunge un elemento ulteriore ai sensi dell'articolo 1322 secondo com e io non a caso ho richiamato ho citato questa previsione perché quando si valuta la meritevolezza di tutela del contratto atipico si dice ma questa meritevolezza di tutela che cos'è è sufficiente che sia la non illicità e quindi effettivamente il problema c'è e capisco la preoccupazione del notaio la capisco la capisco interamente del resto nella pratica proprio questo problema si è presentato i tribunali più di una volta sono stati interessati proprio per stabilire se l'avere utilizzato il vincolo la trascrizione del vincolo a fini di tutela dei creditori in funzione di una procedura e una futura di una successiva evoluzione di una procedura concorsuale risponda ai requisiti di questa disposizione oppure no credo che la risposta non ci sia veramente probabilmente ci sono delle situazioni che rappresentano la classica zona grigia di dubbio di sofferenza per il notaio ci sono peraltro sicuramente delle altre situazioni in cui è evidente che non vi sia una specifica meritevolezza però direi il richiamo alla disabilità il richiamo alle pubbliche amministrazioni unito al principio generale per quel che vale ancora dell'articolo 2740 limitazioni solo nei casi previsti dalla legge dovrebbe forse indurre a una a una certa cautela piuttosto che alla tendenza a allargheggiare ecco questo soltanto direi io pur essendo notaio no tendo anch'io sono molto cauto perché anch'io mi sono formato ahimè in un periodo in cui il 2740 era una norma come dire di generale e quindi ogni deroga la vedo insomma con molta prudenza cioè secondo me ci sono dei casi in cui è assolutamente come dire irricevibile un atto del genere al di là della sua liceità poi insomma per carità io ho visto anche che la giurisprudenza in realtà propende più per la revoca di questi atti che per l'annullamento quindi di fatto poi la teoria nella pratica l'atto viene considerato valido però ripeto anche io sono dell'idea del professore cioè che forse qualcosa in più ci vuole tant'è che anche il tribunale di Verona ripeto per esempio con riferimento agli atti che si facevano prima e il concordato in bianco non lì addirittura qualcuno l'ha anche annullato perché lo riteneva non sorretto dall'interesse del 2645 ter scusate scusate ministro che stiamo in argomento io sinceramente perché ne ho sentito parlare anche adesso notario carbone ma anche precedentemente non sono molto convinto dell'utilità del 2645 ter in pendenza di presentazione o di omologazione della domanda di concordato perché in definitiva nel momento in cui io vincolo questi beni probabilmente genericamente a tutti i creditori avviate a un dato punto che altro può aggredire questi beni se non i creditori e quindi nel momento in cui i creditori li aggrediscono sono legittimati ex articolo 2645 ter del codice civile e magari hanno anche prevalenza perché ci scrivono ipoteca rispetto all'omologazione quindi a che cosa serve questo ricorso al 2645 ter grazie ormai non sarei più a nulla anche perché con la presentazione del concordato in bianco io gli effetti li ottengo lo stesso quindi ma io dirò una cosa in più che adesso io non sono nemmeno così convinto che nonostante tutti gli studi che abbiamo noi questo atto possa essere unilaterale e io il vincolo di destinazione ho anche qualche dubbio che possa essere unilaterale cioè che non ci sia bisogno dell'accettazione del beneficiale sarò l'unico in Italia una utilizzazione residuale può essere prospettata al fine di fare i confe quando il terzo molto spesso il socio è limitatamente responsabile mette a disposizione della procedura un bene e allora bisogna per l'appunto siccome è aggredibile dai suoi creditori come offerta resterebbe sulla carta uno strumento utilizzato e quello per l'appunto del vincolo di destinazione quindi conserva un'utilità residuale nonostante il preconcordato come istituto in ambito concordatario prego avvocato Andrea Radice sapere l'opinione dei relatori su un problema che pone l'articolo 184 secondo coma della legge fallimentare che dice che salvo patto contrario il concordato è efficace anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili qui c'è un problema sempre di una sentenza di sezione unite molto vecchia che dice che nel caso in cui il socio illimitatamente responsabile sia anche fideiussore e quindi il caso tipico è quello della banca che cerca di escutere la fiduzione in realtà questa fiduzione viene atrofizzata diciamo così nei limiti di quanto il concordato preventivo prevede e quindi sostanzialmente limita una garanzia a favore del creditore riducendo di fatto e quindi derogando al 2740 perché il socio illimitatamente responsabile che sia anche nello stesso tempo fideiussore si trova ad avere il vantaggio sostanzialmente di vedersi annullare a suo favore rendere inefficace a suo favore la fiduzione io voglio sapere perché è stata messa in crisi questa sentenza delle sezioni unite però se non ricordo male a livello di obiter non come questo era l'orientamento costante della giurisprudenza della Cassazione per anni ma c'era una più recente sentenza che invece lasciava intendere una utilità della fiduzione prestata della garanzia prestata è un'autonoma valenza causale però per quel che ricordo non era il razio decidendo ma è un obiter quindi le evoluzioni future rimangono non ben prevedibili insomma secondo me se si sostiene che la fiduzione data dal socio limitatamente responsabile abbia appunto un senso allora secondo me non è giusto perché il primo comma della norma dice che i diritti con i fiduzioni si conservano se invece si ritiene che il socio limitatamente responsabile non possa prestare fiduzione perché in realtà è un atto privo di causa come alcuni sostengono allora è chiaro che la sentenza è giusta ci sono altri quesiti altre considerazioni che qualcuno vuole ancora avanzare bene mi pare che allora abbiamo solo messo le premesse per una prosecuzione di una discussione non altro allora diciamo che possiamo considerare almeno avviata la discussione su tutti questi temi restiamo con molte questioni appunto poste sul campo e penso che la riflessione successiva della dottrina anche le pronunce giurisprudenziali aiuteranno ancora di più a chiarire i termini di tutta questa questione noi ci rivediamo per il prossimo incontro dei dialoghi di diritto civile il 13 dicembre con un incontro avente ad oggetto la riforma del condominio quindi la recente ormai però applicata legge sul condominio grazie a tutti e arrivederci grazie a tutti grazie